eccoci buongiorno ragazzi allora stamattina voglio fare un video velocissimo mi è venuta questa intuizione stamattina allora avevo poco tempo ho tuttora poco tempo perché sto andando al lavoro praticamente però volevo fare esercizio allora ho detto oddio come faccio come non faccio sono in ritardo a un certo punto buongiorno Rosalba e buongiorno Chia a un certo punto mi è venuta questa intuizione cioè l'intuizione mi è venuta così ho messo una musica che di solito ballo quando vado a fare baciata ho messo sta cosa nel bagno così mi sono iniziato a ballare davanti allo specchio mentre praticamente mi preparavo e ho notato che comunque muovevo le spalle muovevo il bacino muovevo un po' tutto no buongiorno Carlo buongiorno Chiara buongiorno Maria che cosa state facendo e quindi praticamente questo è un modo per sciogliersi perché comunque ti sciogli ti diverti non te ne accorgi perché in pratica appunto ti muovi senza buongiorno Ivan ti muovi senza accorgertene però lo fai divertendoti perché non ci pensi nemmeno quindi non è che devi stalla fa i pesi le cose no lo fai in automatico e quindi è bellissimo lo volevo condividere con voi se allora se fate esercizio fisico la mattina perfetto cioè io prima per esempio quando non lavoravo andavo a farmi delle camminate lunghissime per monte san viaggio così ora però la mattina spesso lavoro e quindi non lo posso fare quindi o faccio tipo 5 minuti di yoga così oppure ecco adesso ho scoperto questo nuovo metodo che mi metto così mentre sto nel bagno mentre mi preparo mi sparo qualche sal qualche balletto così e mi diverto pure spero che questo mio buongiorno questo mio consiglio mattutino vi possa essere stato utile e ciao Michele e niente raccontatemi voi che cosa fate invece per muovervi la mattina senza però appallarvi e niente vi do la buona giornata e ci vediamo dopo ciao ciao